Ci troviamo nello storico Palazzo Ferrari di Mammola e la location che oggi ospita l'iniziativa voluta dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Mammola, dottoressa Lorena Ierasci, dal titolo Prenditi cura di te positivamente. Vediamo di cosa si tratta, naturalmente c'è una buona presenza qui al Palazzo Ferrari, allora assessore, un'altra iniziativa importante messa in atto dal suo assessorato, ce la vuole descrivere? Sì, in qualità di assessore alle politiche sociali del Comune di Mammola, insieme agli illustri tecnici oggi presenti qui con me, abbiamo lavorato a lungo alla stesura di un programma che avesse ad oggetto il benessere psicofisico dell'individuo e l'idea di chiamare il progetto Prenditi cura di te conclude un quinquennio di iniziative che ha visto Mammola sempre in prima linea nel settore delle politiche sociali a difesa delle fasce più deboli presenti nella comunità. Questa volta abbiamo voluto porre la nostra attenzione sull'adulto perché i progetti appunto si rivolgono principalmente all'adulto e perché spesso, proprio perché adulti e quindi apparentemente forti, non vengono attenzionati rispetto alle iniziative del sociale. Il nostro obiettivo è quello che a conclusione di questi laboratori la persona abbia trasformato quelle energie negative che ognuno di noi ha dentro, quali la stanchezza, lo stress degli stati depressivi, anche legati a problemi lavorativi, li trasformi in energie positive per la sua crescita personale e comunitaria. Io ne approfitto per ringraziare tutti i cittadini, il sindaco, tutti i consiglieri comunali che nel corso di questo mio mandato mi hanno manifestato grande fiducia rispetto al mio operato, ma soprattutto ringrazio il mio gruppo di tecnici senza i quali io non avrei mai potuto raggiungere questi risultati nel campo delle politiche sociali. Oggi noi siamo qui per parlare di corretta alimentazione, di diabete e l'associazione, la GD Locride, è presente proprio perché aiuta molto le famiglie e i ragazzi stessi nel seguire le indicazioni che gli operatori sanitari danno. Parlare di alimentazione, parlare di diabete è un'opportunità perché nella nostra zona il diabete è un problema molto comune, è frequente sia il diabete di tipo 1, quello che insorge nel bambino, ma sta diventando sempre più frequente anche in età pediatrica il diabete di tipo 2. e quindi una corretta alimentazione e un'adeguata attività fisica sono elementi fondamentali per prevenire queste patologie. Perché la psicologia? Cosa c'entra la psicologia con l'alimentazione e con la cura del sé corporeo? C'entra tantissimo se pensiamo che noi acquisiamo delle abitudini che vengono iscritte poi fondamentalmente nel cervello e che lì rimangono a farci ripetere anche abitudini scorrette, abitudini sbagliate. Più che mai oggi perché siamo tutti molto dipendenti da una serie di informazioni non sempre corrette e anche da messaggi promozionali che ci bersagliano dalla mattina alla sera e spacciano per buoni dei prodotti che invece nulla hanno a che vedere con il benessere. L'importanza dell'alimentazione sarà mia cura portarla a chi parteciperà a questo progetto in due sensi l'importanza del mangiare consapevole quindi di alimentarsi in maniera sana e poi di alimentarsi non solo con la bocca ma di alimentarsi con tutti e cinque i sensi e questo è quello che vorremmo portare. Intanto un progetto importante perché coinvolge tutte le associazioni, sono tante le associazioni presenti tra cui quella del fit walking che dobbiamo dire sta ottenendo veramente tanti consensi. Sì, sta ottenendo tanti consensi e sono orgogliosa di questo perché anche io sono, a parte che biologo e nutrizionista, anche istruttrice di fit walking quindi porterò questi gruppi che si verranno a formare a Mammola parlando anche dell'alimentazione e dell'ambiente meraviglioso che abbiamo intorno a noi. L'Organizzazione Mondiale della Salute ci ricorda quali sono le attività che bisogna fare in primis per prendersi cura di se stessi. Mi sembra che il tema qui è particolarmente centrato perché prendersi cura di sé non è soltanto curarsi ma soprattutto è fare tutte quelle azioni quotidiane di prevenzione per arrivare a non ammalarsi. In questo progetto è fondamentale l'integrazione che c'è fra la parte sanitaria, il sostegno psicologico, l'educazione, la consapevolezza, la presa di coscienza di alcuni strumenti come sono la corretta alimentazione e una corretta attività fisica costante che può assolutamente mettere in condizione le persone di avere un benessere personale, prendersi cura di sé quindi non è soltanto però verso se stessi ma soprattutto qui ho visto la presenza di molte donne quindi questo mi fa molto piacere perché la donna è il centro della famiglia e prendersi cura di sé stessi è saper prendere cura della famiglia nel suo complesso e quindi spero che queste giornate possano dare quei contributi che permettono a tutti quanti di vivere meglio.